Musica Candidati sindaci a confronto. Secondo appuntamento con Giovanni 25 e Caterina Ricotti. Buonasera ad entrambi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Inizia stasera il secondo appuntamento di questo ciclo di trasmissioni dedicato ai candidati sindaco. I pretendenti alla poltrona di Primo Cittadino si confronteranno tra di loro due alla volta fino ad arrivare al puntatone finale di giugno quando saranno presenti tutti e sei a disposizione anche stasera 30 minuti. Prima di andare in onda alla presenza degli ospiti, i due primi competitor hanno deciso che aprirà la trasmissione Caterina Ricotti e la chiuderà Giovanni 25. Possiamo cominciare quindi la trasmissione. Quella vista fin qui è una campagna elettorale condotta in modo corretto dai candidati in campo. Abbiamo stabilito che comincia Caterina Ricotti. Quindi ecco, cominciamo a dare vita a questo spazio di 30 minuti. Che campagna elettorale è stata fin qui corretta? I toni moderati? Oppure ci sono stati degli eccessi? Come è andata questa prima parte? Ricotti? Io ritengo che stia andando nel rispetto assoluto delle persone, delle scelte che poi impone anche la democrazia, che è quello appunto di candidarsi, di voler presentare la propria proposta. Ma mi permetto di dire che secondo me questo atteggiamento è doveroso nei confronti della cittadinanza. Perché altrimenti sembrerebbe quasi un candidarsi contro o un litigare perdendo di vista quelli che sono invece gli obiettivi, quelli che invece hanno la passione politica. Quindi noi dobbiamo parlare, parleranno e ci differenzieranno. Non certo le accuse, le urla o il mancato fair play, ma sicuramente ci differenzieranno le proposte, le idee, le competenze, la voglia di fare e di presentare alla città. Quindi io ho molto rispetto, sicuramente non solo ai confronti dei miei colleghi, candidati e sindaco, ma soprattutto lo ritengo doveroso come atteggiamento nei confronti della cittadinanza. Ha consumato un minutino di tempo. Giovanni 25, la stessa domanda per lei, come è andata questa prima parte di campagna elettorale? Anche per lei non sono mancati i contatti, il porta a porta, questo sta nelle cose per far conoscere la proposta. Di proposte magari ne parleremo più avanti, visto che abbiamo a disposizione 30 minuti. 25. Ma diciamo che per certi mesi è una campagna elettorale abbastanza pagata. E ve lo dice uno che di competizione del genere ne ha fatto enorme, a tutti i livelli. Per cui devo dire che rispetto anche al passato c'è un po' di più calma, di più tranquillità, anche se qualche colpo basso in effetti c'è anche ora. Però ci sta, ci sta tutto. Perché in campagna elettorale se vai a mancare proprio, come si dice, l'anima della campagna elettorale, anche qualche colpo basso ci sta. Però quando uno parla, e questo è un invito che faccio a tutti, con la verità, con le ragioni che porta avanti il suo progetto, difficoltà non ce ne sono. Noi affrontiamo la gente ormai da diversi mesi, guardandoli negli occhi, perché ho usato questo slogan proprio per questo. Io non ho paura, io posso guardare la chiunque, qualora qualcuno li può anche abbassare. attenzione, ma non interessa più di tanto. Noi chiediamo il voto, chiediamo il voto con un progetto serio. Poi sta la gente a decidere a chi dare il voto o meno, fare, non sono io la differenza, ma fare la differenza tra i vari candidati. Anche stasera, stessa domanda per tutte e due, parto da 25, poi chiudo con Caterina Ricotti, questo secondo giro di domande. In questa parte di campagna elettorale i contatti, dicevamo prima, non sono mancati. La gente che cosa chiede al futuro sindaco di questa città? Lei peraltro è stato già nel 2008 sindaco di Scicli. Io sono stato sindaco dal 2008 alla fine del 2011, novembre del 2012. La gente chiede le stesse cose che chiedeva dieci anni fa, tale e quale. Per essere più chiari, non ti chiede l'autostrada, non ti chiede la luna, ti chiede la buca, ti chiede la lampadina, e ascoltarli principalmente. Io durante il periodo che ho passato al comune ero diventato un confessore. Un confessore nel senso che la gente a volte non chiede niente, ma viene a sfogarsi, per la qualsiasi cosa, per una cosa che non va. Ma magari anche per il vicino di casa che lo disturbo, o viceversa. Io ricevevo lettere da fuori, anche da penitenziari e di detenuti ciclitani, che si confessavano, ecco questa, la presenza sul territorio è questa, volare bassi, e io ho sempre volato bassi. La mia presenza sul territorio è costante, l'ho stato impassato e lo sapevo sempre. La porta, non del comune, ma da casa mia, era sempre aperta. Una cosa per tutti. La gente trovava chiusa la porta del comune di sera, specialmente nelle stagioni estive. Tramite amici venivano a casa, c'è il sindaco, ci puoi aprire per cortesie. Questa è la disponibilità, essere presente sul territorio, alzarsi la mattina e accompagnare gli avutisti dello scuola, bus, a raccogliere i bambini nelle campagne. La presenza è questa, non lasciare solo la gente. I progetti avveneristici si fanno, si fanno, col tempo, però si fanno anche in sinergia col territorio, con la gente e con l'amministrazione comunale. Bene, anche stasera il candidato sindaco Giovanni XXV ha detto, sì, le grandi opere ci stanno tutte. Ci stanno, quale sarebbe il contrario? Però bisogna andare poi anche alle piccole cose, che sono le cose della quotidianità. Diciamo che dobbiamo guardare la nostra realtà, e la realtà nostra è terra terra, se andiamo a confronto con gli altri comuni vicinori. Caterina Ricotti, stessa cosa pure per lei. Tra l'altro questa campagna elettorale si è caratterizzata per una cosa, cioè i candidati stanno frequentando tutti i quartieri, le zone anche periferiche, le borgate, per cercare di portare la propria proposta. Questi presidi che nascono nei quartieri più popolosi della città, quale risultato sta portando? Ecco, la domanda che ho fatto prima al suo competitor 25, che cosa chiede la gente, ai candidati sindaco? I cittadini e le cittadine innanzitutto chiedono una semplificazione, uno snellimento, uno snellimento anche nell'accesso, nel poter accedere a quei servizi, a tutti i servizi, alla macchina comunale. Sicuramente chiedono anche presenza e ascolto. Sono d'accordo con quanto detto da Giovanni, tant'è che abbiamo, proprio da questo ascolto, anche da questa esperienza di cinque anni, prima di pensare, perché penso che un amministratore deve avere una visione di insieme, e quindi sicuramente anche attenzione alle opere pubbliche, ma intanto chiedono qualità della vita, quindi semplificazione e qualità della vita, che non può non passare dal decoro urbano, che non può passare anche dalle piccole manutenzioni, da un controllo e da una presenza nel territorio. Tant'è che noi abbiamo già messo nero su bianco, proprio perché grazie a questi presidi, a questo ascolto, stiamo portando avanti un programma partecipato, che sta avvenendo proprio dal basso, dagli operatori del settore, ma soprattutto alle cittadine, è la creazione proprio di un assessorato dedicato, col corrispettivo ovviamente, alle manutenzioni a 360 gradi, quindi per facilitare la qualità della vita, collegato a questo bisogno non solo di ascolto, ma di avere anche contezza, poi delle risoluzioni dei problemi, delle segnalazioni, del monitoraggio, proprio con un nuovo ufficio relazioni con il pubblico, che è proprio collegato alle manutenzioni, alle segnalazioni, e poi la presenza del sindaco, che veramente da buon padre di famiglia, o da buona madre di famiglia, sia presente, sia attenta, io ho cercato, perché veda è facile, e si rischia di non essere credibili, se solo in campagna elettorale ci si va in giro, ecco io ho cercato anche nel mio ruolo di questi cinque anni, di essere sempre presente, di essere sempre vicina, e devo dire che questa cosa la sto sentendo, dai cittadini e dalle cittadine, mi riconoscono questa vicinanza, quindi penso che poi, laddove veramente si può incidere ancora di più, quindi essendo il sindaco, potrei potenziare e implementare questa predisposizione, questo ascolto. Allora, sempre al contrario, Caterina Ricotti, e poi chiude questo terzo giro, Giovanni 25, stessa cosa ho chiesto agli altri due competitor, che hanno aperto il ciclo di trasmissione, la domanda è stata posta in un altro modo, ma la sostanza è questa, chi sta dietro la vostra candidatura, chi vi sostiene, Caterina Ricotti e poi Giovanni 25? Io la ringrazio per questa domanda, perché dietro la mia e la candidatura di tutta la mia squadra della coalizione ci sono le persone, i cittadini e le cittadine di Scicli, questo perché è Scicli che deve scegliere, le decisioni sulla rappresentanza devono essere prese a Scicli, non devono essere prese nelle segrete stanze, non devono essere frutto di inciuci e non devono essere prese a Ragusa o Palermo, è Scicli che deve scegliere e che poi la cittadinanza sciclitana e l'amministrazione dovrà poi individuare quelli che sono i propri rappresentanti a tutti i livelli, quindi importanza di questo asse, di questo asse sicuramente con Palermo a livello nazionale, che noi insomma abbiamo anche noi dei partiti, quindi accanto al movimento... E quel peso della politica c'è? Sì, quindi accanto al movimento è giusto anche fondamentale il ruolo dei partiti, però si parte dai territori, io adesso ho visto la legge di stabilità della Regione Sicilia 2022-2024, con dei pesanti tagli agli enti locali, in una situazione già difficile, quindi voglio dire, è Scicli che deve scegliere, quindi dietro di noi ci sono solo i cittadini e le cittadine di Scicli, perché le persone sono la nostra forza. Abbiamo fatto anche delle scelte coraggiose, abbiamo detto anche dei no, proprio perché secondo me un sindaco ha l'obbligo, chi si candida a sindaco, non deve solo pensare a vincere, deve pensare poi a governare, serve la stabilità appunto amministrativa per poter fare le cose, quindi poi persone, uomini o donne, che tirano giacchetto, che rivendicano solo ruoli, senza pensare alla costruzione di un noi, senza pensare a lavorare nell'interesse del Paese e io spero, ma sono ottimista, che la gente riconosca questo coraggio, anche questo coraggio sulla, noi abbiamo detto, in realtà stiamo declinando il coraggio, il coraggio di cambiare, il coraggio di cambiare significa di portare a compimento un progetto che poi ha avuto una brusca e brutta interruzione e che è quello di portare a compimento un ricambio, un ricambio generazionale e di genere, non mi sembra che ci sia stata già una sindaca donna, ma non solo perché donna, ma in quanto si è già formata, si è già impegnata, e quindi portare a compimento anche una scelta coraggiosa di ricambio, soprattutto non è solo questione generazionale, ma di determinate dinamiche che a nostro avviso hanno portato in passato, sicuramente mi riferisco agli ultimi, quantomeno oltre dieci anni della storia di ciclo, una instabilità politica, di missioni, e quindi dare alla forza già adesso di poter appunto non solo vincere, ma soprattutto governare, amministrare con la schiena dritta, senza che nessuno possa tirare i fili dall'alto, perché il potere appartiene al popolo, non lo dice solo la Costituzione, è una cosa a cui tutti noi crediamo, e per questo ci siamo spesi. Domani sera, a proposito di candidata sindaco, ci sarà Rita Torovato, se la vedrà insomma con Carmelo Vanna, se la facciamo un po' di promo, anche stasera insomma. Giovanni 25, chi sta dietro il suo progetto politico-amministrativo? Mi consente però prima una breve precisazione, poi rispondo benissimo alla sua domanda. La candidata Caterina ha detto delle belle parole, però ha dimenticato un passaggio, che l'ha amministrato nella passata amministrazione, con la figura di vice sindaco. Allora io dico, il suo operato può essere accettabile, ben fatto, tutto quello, ma qua parliamo di un'intera amministrazione, di un'intera giunta, di un'intera coalizione. L'operato di questa coalizione non ha dato i risultati che sperava la città di Cicli. E se vuole io le spiego anche i motivi, la prendo con la mano e l'accompagno lungo il territorio. Il malessere esiste, ha mai fatto un giro per le strade, per le campagne. Io da parte mia posso dire che da dieci anni chiedo al Comune, competizioni, raccomandandomi con tre assessori, che si sono succeduti nel tempo, per aggiustare 200 metri di strada. Se ci allontaniamo e guardiamo verso Monte, noi vediamo una strada completamente distrutta, la strada di Zaccarone, la cui bretella è stata fatta da me tra il 2008 e il 2010. Completata, ma è rimasto il secondo lotto da completare, che è ancora come l'abbiamo lasciato dieci anni fa, con tutte le varie viziosità che esistono. È una delle strade più trafficate di Cicli, perché congiunge la zona artigianale di Cicli con quella di Modica. È un asse di aria fondamentale, dimenticando che ci sono anche tutte quelle aziende che danno sostegno a questo Paese. E se non si ha attenzione, ma non un giorno, non solo questa amministrazione, anche le precedenti, a queste esigenze, che tocchiamo giorno per giorno per mano, e come le ho detto, io le accompagno lungo il territorio e le faccio vedere, tutte le negligenze e inefficacia di un'amministrazione. Non è la Caterina Arricotti qua. Qua parliamo di una gestione quinquennale di un'amministrazione. Per rispondere alla sua domanda, tranquillamente, La faccio rispondere dopo. Sì, certo. Dietro non ho nessuno. Ho delle forze politiche riconosciute. Non ho deputati a portata di mano. Ho un simbolo di un partito. E la forza maggiore è nei giovani che mi stanno sostenendo e mi hanno dato l'onore di rappresentarli in questa competizione. Il candidato sindaco Giovanni 25 ha anticipato, come dire, le domande. La domanda è incrociata, che si scambiano i due. La domanda quindi già è partita. Lei può rispondere e poi può fare una domanda. Può fare una domanda. È lo spazio dedicato alle domande incrociate. Tanto risponde e poi fa una domanda al candidato. Che risponde, innanzitutto. La ringrazio se vuole. Mi può accompagnare, mi fa piacere. Passo lei del tempo anche con lei. Ma io le assicuro che non vivo e non ho vissuto nell'iperuraneo o altrove. Sono una cittadina di cicli. Vi leggo d'estate nella casa storica dei miei nonni a Donna Lucata. Vivo la mia città. Vivo tutte le problematiche che le ha segnalato. E di cui mi prendo. Perché non rinnego niente. Non rinnego l'impegno. Non rinnego i compagni di via. E tutto quello che è stato fatto. E non rinnego anche il fatto che cinque anni sono pochi. Specie se uno dei primi obiettivi che abbiamo portato tutti insieme a compimento è stato quello del risanamento dell'ente. Del pagamento di debiti fuori bilancio. E ne ho tutto l'elenco. Che non solo alcuni fatti da quando non ero nata. Ma soprattutto nelle amministrazioni che si sono succedute. E questo non è attenzione. Un tirare. Perché nel momento in cui si insedia un'amministrazione e la responsabilità di tutto l'operato e anche delle cose ancora da fare è di quell'amministrazione. Quindi non sto dicendo. Io sto solo dicendo che i problemi vanno affrontati. va dato una scala di priorità. Abbiamo preso tutti insieme una decisione che sicuramente può sembrare meno allettante da un punto di vista ora elettorale. Ma sicuramente è più saggia per chi ha cuore la città. Ovvero abbiamo ricostruito le fondamenta dettate anche dal fatto che due sindaci di missionari, un commissariamento. Non avevano potuto dare quella continuità anche a progetti. Io ad esempio ho molto apprezzato, glielo dico, l'astimo molto per il suo operato di quegli anni. E so che anche lei non è stato reso possibile portare a compimento tutto il progetto. Ma trovare molte cose ferme nel cassetto, rifar partire la macchina, come io faccio sempre la metafora della barca che è totalmente insabbiata. Quindi io dico, non sono d'accordo sul fatto che è stata una gestione fallimentare. No, è stata una gestione di risanamento, è stata una gestione di attenzione alle nuove generazioni perché non si può amministrare grandi o debiti che andranno nelle nuove amministrazioni. Ora siamo tutti, quindi io mi metto al pari degli altri colleghi sindaci, ora veramente si può non solo amministrare ma cogliere le sfide che il futuro ci sta offrendo e che la situazione attuale ci sta offrendo. E questo è merito dell'amministrazione di cui anche io ho fatto parte. Quindi non dico merito di uno o dell'altro. È stato un lavoro, ripeto, silenzioso ma molto coscienzioso e che ha veramente a cuore le sorti di questa città. Adesso Scicli può, come dico io, volare, cioè può veramente, questa barca può andare a mare aperto. Ma il lavoro silenzioso che abbiamo fatto tutti di liberazione della barca dalla sabbia noi l'abbiamo fatto e io questa parte la rivendico con orgoglio cercando di non perdere mai l'attenzione alle persone, alla gente, agli ultimi e soprattutto durante la pandemia perché la pandemia, cioè non possiamo fingere che non ci sia stata e che ancora non abbiamo pesanti conseguenze anche sul fronte delle creazioni di nuove diseguaglianze. e abbiamo cercato tutti di stare molto, molto vicino a tutti i cittadini. Sono passati i trascorsi 18 minuti ancora c'è tempo per fare alcuni giri sto fermandoci poi, sì, 25, sì, no, no, può, può, certamente poi bisogna far fare la domanda a lei è doveroso anche rispondere a quanto è esternato dalla candidata Caterina cioè lei parla bene lei ha resonato un comune se è vero come è vero prendendo spunto anche dalla dichiarazione del sindaco, del suo sindaco che lei ha lasciato, si è dimessa alla scadenza, diciamo, del mandato elettorale anche là è discutibile queste azioni quando uno si dimette, si dimette prende i bagagli e va a casa ma non ha senso dimettersi con un mandato finito perché questa amministrazione il mandato l'ha finito a novembre dell'anno scorso più o meno l'ha data quando lei si è dimessa prima o prima i numeri che ha esternato il suo sindaco e per certi versi anche il mio sindaco lo posso dire tranquillamente il mio sindaco anche perché io gli ho dato il voto senza nessuna remora perché io non guardo perché poteva essere la volta buona che questo paese prendeva la strada giusta perché c'erano un sacco di ragazzi e mi riferisco al gruppo di start e così discorrendo però i numeri esternati dal suo sindaco che lei ha preso a visione ma non lo so io non ne capisco di bilancio però qualcosina l'ho imparato ha detto noi abbiamo 220 mila euro di debito complessivamente bello sarebbe quando i numeri dicono invece che abbiamo oltre 50 milioni di euro ma dove viviamo? ma dove viviamo? ma che quantificate queste cose? ma come si può dire alla gente ecco perché io dico che si nasconde la verità almeno non tocchiamo questi argomenti quando andiamo al comune non tocchiamoli quando io non ho la presunzione quando io sono arrivato nel lontano 2008 io ho trovato una gestione di bilancio della precedente amministrazione mi sono rimboccato le mani non ho rimproverato niente a nessuno a chi mi ha preceduto nella figura del dottore Falla ho trovato un sacco di ordinanze di determini e di cose da espletare mi sono messi ci siamo messi di buona linea e abbiamo incominciato non ho quantificato quanti debiti c'erano ma man mano ma un particolare pochi giorni dopo essere stato eletto anche per dare l'esempio a chi ci sta guardando vado al supermercato per fare la spesa la ragioniera della Conad facciamo pubblicità si è avvicinata dice guarda signor sindaco mi scusi se la disturbo però ci sono i buoni va bene gli ho detto perché non avevo afferrato il discorso guardate erano i buoni della spesa dei dipendenti che non erano stati pagati da otto mesi sanati ecco il bilancio per cui tu accetti quello che trovi poi man mano prendi e comincia a impostare la cosa io in quei anni non ho risanato il bilancio perché non lo potevo risanare perché nessuno è capace di risanare un bilancio si gestisce il bilancio si sane quando presentiamo il rendiconto è stato chiaro per tirare avanti per tirare avanti è stato chiaro lei ovviamente nel suo passaggio ha detto io come dire sono uscita perché voglio andare avanti con una nuova proposta e voglio continuare il mio impegno amministrativo detto questo qual è la domanda perché il 25 stasera è tosto è determinato qual è la domanda che Caterina Ricotti fa al suo competitor Giovanni 25 la prima domanda l'ha fatta lei quella è incrociata adesso la faccia lei Ricotti guardi io non posso non fare una domanda anche perché lei ha accennato alle mie dimissioni e vorrei spiegare ulteriormente perché non dobbiamo stancare come ha detto lei quando si dice la verità si può andare a testa è fondamentale però io la domanda che le vorrei tanto fare è che la sua esperienza appunto da sindaco che poi è finita con le sue dimissioni che vedevano nella sua giunta esponenti quindi la sua giunta la sua amministrazione di centrodestra era fatta appunto da assessori alcuni dei quali ora sono candidati a sindaco tipo Giorgio Vintini però a sinistra mi pare che a sinistra appunto a centrosinistra non commentiamo no no dico no 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 sto facendo una constatazione c'era penso Giannone Teo Gentile Teo Gentile Angelo Giallongo che invece diciamo fedele alle Aline insomma adesso è impegnato anche con lei la domanda è questa la motivazione perché guardi io penso che c'è anche una dignità nelle dimissioni sì è un sacrificio sicuramente è un passaggio che immagino perché nel mio piccolo ecco non era il sindaco comunque ho vissuto e che non nascondo che mi abbia anche segnato però volevo capire le motivazioni Tempra sì e volevo capire le motivazioni che hanno portato quindi le motivazioni politiche che hanno portato alle sue dimissioni da sindaco molto semplicemente cominciamo a sciogliere qualche anno la ringrazio la ringrazio come? io mi riposo nel frattempo visto che come dire la trasmissione prevede le domande in croce no molto semplice le rispondo e anche la ringrazio per la domanda per certi versi le devo dire che io sono stato eletto con un da un paese intero perché 7.996 voti in prima battuta e passare col 50% non col 40% due voti è stato un bagno di folla tralasciando questo io non posso rimproverare niente alla mia giunta ai miei assessori però ci sono degli aspetti che io col passare del tempo non ho più condiviso e mi spiega ancora meglio noi abbiamo lavorato non abbiamo fatto politica diversamente da come si fa o si è fatto da 10 anni a questa parte non ci crederà ma sono gli atti che parlano le uccio qualcosa se la puoi ricordare io ogni due mesi davo compiti ai miei assessori e dovevano rivolgere i compiti infatti cioè è stato ripreso da diverse state nazionali questo è il sindaco che dà i compiti a casa perché era tutto mirato al lavoro e i risultati si vedono a tutt'oggi perché le due successive amministrazioni stanno vivendo con quanto abbiamo lasciato noi qualcosa è stata dimenticata e io invito a coloro i quali andranno a fare il sindaco di guardare i piani riennali compreso lei 25 compreso lei compreso lei compreso io lasciamo stare io mi metto da parte in questo momento mi metto da parte come le dicevo andate a guardare i piani riennali non inventatevi nuovi progetti nuove strategie è tutto scritto basta metterlo in atto ci sono tante belle cose io ho ripreso alcune cose dell'amministrazione falle le ho portate avanti e così io invito coloro i quali andranno a sedersi a palazzo palle di guardare i piani riennali perché è molto importante perché vi dà la possibilità di poter amministrare nel migliore dei modi perché trovate delle tracce torniamo al discorso delle mie dimensioni io non evito le domande per cui dicevo per quasi quattro anni abbiamo lavorato però man mano che passava il tempo cominciavano ad esserci delle divergenti il cambio degli assessori quando un assessore funziona perché lo dobbiamo cambiare io non lo condivido io nemmeno squadra che lavora deve continuare invece siccome io no ma gli altri si avevano preso impegni nel fare le liste e allora poi io ti accontento con questo ti accontento con quell'incarico ti do l'assessorato dopo sei mesi se l'assessore vale portiamolo avanti perché è nell'interesse della città è stato chiarissimo l'altra cosa e chiudo è stato che prima si ragionava sulle cose negli ultimi tempi si veniva col detto non chi stava dietro le quinte ma andavano i sensali abbiamo deciso io non decido io non decido neanche a casa mia per cui ho visto che non c'era le motivazioni la spinta che ti poteva portare ancora ad amministrare siccome io amo questo maese perché altrimenti non sarei qua ancora ora è solo per dare un segnale perché a 70 anni io non ho niente le mie mani sono qua cara Caterina li puoi guardare da lavoratore sono qua e dare per un segnale di cambiamento coloro i quali riescono a cappettarlo non sono pazzo però è l'ultimo e io ne ho viste di cotte e di crude in 5 anni di cotte e di crude 3 processi compreso la Cassazione condannato alle spese civili ma non ho avuto un grazie da nessuno ma non pretendevo dalla città ma neanche da chi ti stava accanto neanche dalla telefonata eccole le conseguenze quando si rompe il giocatto fate in modo che non si rompe il giocatto lasciamo ecco partiamo da queste ci devo fare la domanda io no già lei l'ha fatta prima io gli auguro a lei come a tutti gli altri una buona buona campagna elettorale e auguri e vince e chi vince va bene parliamo un po' di programmi di proposte andiamo un po' sui contenuti facciamo partire Caterina Ricotti poi ricordo che la trasmissione perché si sono tutte e due concordati sul fatto che chiude Giovanni 25 stasera non c'è il lancio della monetina come la volta precedente Caterina Ricotti è una campagna elettorale che ha i suoi contenuti no perché si parla tanto di tasse tributi rifiuti mobilità turismo insomma gli argomenti non mancano 25 diceva nel suo primo intervento le grandi opere ben vengono i grandi argomenti devono esserci anche se poi non bisogna perdere di vista la quotidianità però cerchiamo un po' di indirizzare questo progetto per gli anni che verranno allora la questione raccolta differenziata tasse e tributi mi ripeto insomma poi il grande tema il grande tema che poi è il primo obiettivo è quello sicuramente di efficientare la macchina amministrativa e il personale perché c'è una bella sfida da cogliere che è quella della transizione digitale che quindi facilita quel discorso che dicevo prima semplifica la vita dei cittadini anche nell'accedere a tutti i servizi di cui sono appunto di cui hanno diritto e per far questo però sicuramente serve un personale che sia qualificato cioè concentrarsi sul personale e sulle competenze mi riferisco all'interno appunto della macchina comunale e quindi sicuramente alla luce del piano di riequilibrio pluriannale che sta avvenendo quindi del lavoro di risanamento di cui parlavo prima e quindi del venir meno di stringenti limiti sulle spese del personale dovute appunto a questo piano di riequilibrio nell'ambito del risanamento sicuramente il primo obiettivo è quello di quasi un po' curare rifocillare in termini di personale in termini sappiamo dei tanti tanti pensionamenti quindi sicuramente la prima l'ulteriore passo è quello di sistemare efficientare la macchina comunale da lì discendono discende un po' tutto perché sicuramente anche là il bisogno di risposte nelle istanze dei cittadini deriva anche da una macchina comunale che arranca anche incolpevolmente proprio per tutti questi scenari quindi sicuramente innanzitutto questa iniezione è fondamentale da lì discende il discorso sicuramente delle tasse dei tributi che però ripeto anche i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter adempiere di poter pagare incentivare una vicinanza anche di servizi di chiarezza e di risposta alle risoluzioni che vada dal ricalcolo a quant'altro sulla raccolta differenziata è stato fatto tanto io sono molto contenta e orgogliosa del lavoro che ha fatto Bruno Mirabella non solo nella raccolta differenziata spinta ma anche nella sua capacità di essere presente nel territorio la sua lotta alle discariche abusive ma anche quella di essere innescare perché poi la raccolta differenziata veramente è una cosa la più democratica che c'è in cui siamo ognuno parte di un tutto ognuno deve fare la sua parte se no qualcosa non funziona allora grazie alla presenza sul campo alla vicinanza con i cittadini si è veicolato bene certo adesso occorre potenziare con isole ecologiche che risolvono anche un problema perché abbiamo una vocazione turista quindi molti B&B che si vacanze e ci dicono sì ma i giorni di raccolta differenziata se si sfugge allora con l'isola ecologica quindi agevolare aiutare lavorare quindi sui correlati sgravi che sono appunto quasi premiali premianti a un aumento ulteriore della raccolta percentuale sul turismo sul turismo sull'agricoltura quelli che sono i perni della nostra economia in un momento così difficile sicuramente innanzitutto e onere dell'amministrazione innescare processi virtuosi e come come lo si fa quindi innanzitutto mettendosi non solo in ascolto ma creare una sorta di agente come dico io facilitatore nella promozione un esempio su tutti ma che si può implementare veramente in tutti gli ambiti che quindi poi riguarda la promozione il marketing territoriale la promozione del territorio e quella ad esempio della film commission comunale quindi con personale in auto senza dispendio di risorse che però è una struttura organizzata e che va a candidare Scicli in tutte le sedi anche nei festival del cinema come set cinematografico perché poi di rimando una cosa virtuosa che rivendico e che insomma dobbiamo implementare è quella sicuramente della gestione affidata da una cooperativa sociale di tipo B quindi che fa anche inclusione lavorativa e anche alle categorie svantaggiate dei siti culturali del comune che sono aperti in maniera diuturna e come si fa? C'è già tutto un capitale umano di sviluppo già presente quindi non ci si deve inventare niente ma si deve mettere in ascolto e creare questi processi innescare questi processi che comunque creano creano sviluppo Allora siamo alle battute conclusive c'è lo spazio assegnato anche per Giovanni 25 che chiude questo confronto candidati sindaco a confronto di questa sera domani sera ne seguirà un altro lo ricordo di nuovo Carmelo Vanasia si confronterà con Rita Trovato intanto Giovanni 25 a chiusura di questo confronto di questo bel confronto anche perché certe cose importanti sono state dette insomma quindi la gente ovviamente è informata su quello che si vuole fare sulle rispettive proposte un paio di minuti so poi che lei ne consumerà di meno anche di meno perché allora 25 in chiusura che cosa possiamo dire in chiusura di questo confronto garbato dai toni garbati insomma 25 ma potremmo dire tante cose ci limitiamo a dire le cose che possiamo portare avanti intanto ci da rivedere una pianta organica che deve essere e questa è una cosa rivisitata io devo dire deve essere anche inventata con una differenza che quando io sono arrivato nel 2008 c'erano 356 dipendenti ed era in esubero almeno di 100-120 figure ora man mano sono scemate per pensionamenti e discussioni varie ci troviamo ad avere 160-170 persone da un lato è buono perché ci sono gli stipendi in meno e si possono fare gli investimenti sul territorio dall'altro lato però c'è una carenza che è devastante qualcuno non lo dice ma è così la lungaggine nel rilasciare certificazione licenze e quant'altro da parte degli uffici perché l'organica è quello che è né tantomeno possiamo obberare come si dice queste persone di ulteriore lavoro perché già sono stressati perché avere il contatto con il pubblico occupa molto del nostro tempo per cui i dipendenti il pubblico espletare le cose diventa molto difficile per cui c'è una pianta organica da inventare e cercare di farla nel migliore dei modi principalmente un ufficio tecnico e lo sviluppo economico che sono le basi di un futuro di un territorio parte tutto da lì e noi ci troviamo con un paio di figure di un certo livello con un ingegnere che ha la responsabilità dell'urbanistica a prestito per certi versi perché passa dei giorni a Pozzallo e poi i giorni li passa a Sciclo o viceversa ora io non so non è questo ecco le cose che dobbiamo guardare poi ci troviamo di fronte la stagione estiva e come andiamo ad affrontare la stagione estiva con quella organica per voi che diventerà sindaco è un problemaccio il bilancio è ancora da fare il bilancio è ancora da fare io per fortuna allora l'amministrazione Falla l'ha lasciata ma ci abbiamo messo mano dopo un mese per la rivisitazione vedere un pochino di aggiustare le cose ecco le inefficienze di un'amministrazione cara Caterina non sono rimprovere diretti alla singola persona che si chiama Caterino si chiama Rito si chiama Giorgio e via discorrente e l'insieme come si è gestito per cinque anni questo comune e io posso dire si è gestito non mi pronuncio né male né bene si è gestito i risultati però tutti i nodi vengono al petto e li pagheranno alla fine i cittadini perché con le inefficienze con i disservizi penso che in questi cinque anni conosci le difficoltà dell'approvvigionamento idrico nelle campagne nelle borgate a Playa Grande per andare nello specifico al villaggio a monte di Playa Grande la parte alta di Cavadali che via discorre questi sono i problemi che mi devo inventare che già sono scritti va bene ok abbiamo terminato questo spazio questo secondo appuntamento del ciclo di trasmissione i candidati sindaco a confronto io ringrazio Caterina Ricotti grazie grazie anche a Giovanni 25 l'appuntamento è per domani sera quando su quelle due poltrone siederanno Carmelo Vanasia da una parte e Rita trovato dall'altra parte voi vi tornerete in questo studio confrontandovi tutti a giro con gli altri candidati sindaco in modo tale che arriveremo al puntatone finale con tutti e sei in studio magari allargheremo lo studio metteremo qualche poltrone in più ovviamente e daremo vita ad un definitivo conclusivo confronto grazie sì 25 no no mi scuso con Caterina sono stato un po' in ruendo ma se ricorderà sono raccomandazioni va bene va bene di un padre di un padre ma non c'era bisogno perché l'aveva capito già l'aveva capito la Ricotti che nell'intervento certo ma è un po' il sale che va ci sta grazie ancora a domani sera arrivederci a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti